Ci trasferiamo ora all'Aquila, a sette anni dal rapporto internazionale sullo sviluppo dopo il sisma, un momento di confronto sul futuro della città. Michela Barillari. L'Aquila fa il punto a sette anni dal rapporto OXE sul futuro della città dopo il sisma. In questo rapporto c'erano quattro idee chiave. Fare dell'Aquila una città della conoscenza, una città intelligente, una città creativa e una città aperta e inclusiva. Sono stati fatti grandi passi avanti per ognuna delle prime tre idee guida. Quella che è rimasta a mio avviso un po' indietro è l'ultima. Non si è riusciti a scatenare lo sviluppo dell'Aquila e dei comuni minori del territorio. Ci sono delle basi nell'università, nella ricerca, nel turismo, nei sottopassi che fanno dell'Aquila una città moderna, ma manca qualcosa. Perché manca? Mi ha chiesto lei. La mancanza di continuità. L'innovazione, l'uso colato del patrimonio del territorio, un coinvolgimento maggiore del mondo culturale e dei cittadini, esigenza sottolineata anche in un confronto con la cittadinanza. Facilitare la partecipazione al massimo, mettersi in gioco, ma partecipare. Per Confindustria necessaria maggiore ambizione nel pensare a un futuro che deve coinvolgere di più i giovani, per i sindacati puntare di più sulla conoscenza e la cultura. E parlando di cultura va poi ricordato come tra le criticità della ricostruzione ci siano sicuramente le scuole. Dopo dieci anni dal terremoto dell'Aquila ancora non viene ricostruita nemmeno una scuola. Domani ci sarà il Presidente della Repubblica che aprirà simbolicamente in tutta Italia l'anno scolastico e a noi come comitati, come associazioni ci risperà. E questo è un grosso riconoscimento che ci dà il Presidente in questi dieci anni che ci siamo impegnati all'Aquila.